Il mio obiettivo è il mio obiettivo di spiegare. Allora, il mio obiettivo è il mio obiettivo di spiegare la testa. Il mio obiettivo è il mio obiettivo di spiegare la testa. Cioè, io mi parlo normalmente per fare una tecnica prima o un attimo prima. Capire cosa sta facendo lui e fare un attimo prima come mi piace. Però noi facciamo un piano per capire. Allora, a questa posizione, sono qui. Adesso vi faccio il mio obiettivo di spiegare il mio obiettivo. Questi sono qui nella stessa. Vado a cercare la posizione del mio obiettivo. La gamba va fuori e si gira. Ricordate sempre di girare. Qui, adesso, quando io lo sento, non si vede neanche a forza. Allora, prima vi sensibilizzate bene e capite il mio obiettivo. Fatelo sempre a un fattore di distanza. Pensa la mentesa. Poi me lo tiro contro. Stesso lavoro che ho fatto qui. Poi la gamba. Giro. Quando abbiamo capito il movimento, Non andate verso il ginocchio, tirate e aspettate per la gamba. Ok? Bene. Grazie. Grazie.